Se fosse un nuovo ruolo e un nuovo review, andiamo in contatto, sul quale ovviamente che si ha progressato un po', e dunque, Saranogu contro Tatarugiano, 10 e 20 sul programma. Cosa fare? Oh no, tro què parla, guarda qua! Centraってる! Centro della porta, puntato sulla generazione centrale, e ha trovato il go del X. Sì, ha finito forse, centra avanti. Per lui un gol in carriera contro il Milan quando aveva la maglia del Cagliari, aumentare vantaggio rosso-blu in una partita poi ribaltata dai rossi-neri per 2-1. Questo è il suo punto di vista, tra cui rivediamo layout dalla distanza con Andanovic che riesce a tenerla lì. Tonali sul punto di battuta Ibra, Kier, Kroenic, Leao, Tomori, Kessi Tutti a saltare Parte Tonali, balla morbida Tomori! 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 TomoriINE! Tomori! 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 Pronto sul dischetto da Ultimate Martinez Contro Tantano Republicans 26.15 con il destro no, no! no, no! No, no! no torri torri io di me eeeh Consesso Milan con che si che si allunga il pallone arriva il fisco dell'arbitro proviamo andare data Reusualdo